Ciao a tutti! Eccoci qui a Mamme e Sol per presentarvi il progetto Siamo Piccole Note. Io sono Francesca Gorgarello, l'ideatrice e la fondatrice di questo progetto. Un progetto dedicato alla musica come strumento di relazione, comunicazione e cura fra mamme, papà e bimbi. Nel 2015 è diventata una piccola casetta, un'associazione nel cuore di Torino che accoglie ogni giorno tantissime famiglie. Da alcuni anni l'entrata a fianco dei genitori dei bimbi nati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Anna di Torino. E da allora accompagna le mamme e i papà a rendere la loro presenza sonora e la loro voce un prezioso strumento di rassicurazione e di cura per i loro bimbi. Da questa esperienza è nata nel 2019 la ninna nanna del prematuro e poi l'idea di una storia che racconta come ognuno di noi nasce piccola nota e di come nella nascita di un bimbo prematuro nonostante sia dolorosa e sconvolga grandi e piccini la musica possa diventare un importante legame, uno strumento di cura. Con il vostro contributo vorremmo pubblicare questa storia all'interno di un libro illustrato adatto a grandi e a piccini. Una storia che alla fine conterrà anche la ninna nanna del prematuro. E il vostro contributo è importante per raggiungere questo importante obiettivo ma non solo. Con il vostro contributo potremmo anche proseguire il progetto di musicoterapia online per tutti i genitori che verranno dimessi e che a casa potranno continuare a usufruire della musicoterapia come importante momento di relazione insieme ai loro bimbi. Sostieni anche tu il progetto, anche tu sei stata una piccola nota, non dimenticarlo. Vi ringrazio perché so che insieme saremo tantissimi e faremo un viaggio speciale nel mondo della musica. Grazie, a presto! Grazie! Grazie!